Buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Torniamo oggi a parlare di Partito Democratico. Il tema che è inevitabile in questi giorni è un po' il tema che tiene banco sia a livello nazionale che poi è declinato anche sui territori, soprattutto in Toscana, laddove c'è un governatore Enrico Rossi che è appena fuoriuscito dal Partito Democratico e quindi si porta dietro ovviamente uno strascico di polemiche e non solo, però vedremo anche quali saranno gli effetti poi appunto sui territori. Il nostro titolo oggi richiama i single, richiama anche un pezzo molto interessante uscito questa mattina sulla Nazione che racconta sostanzialmente di una Firenze dove i single sono sempre di più nei nuclei familiari, è una cosa piuttosto interessante ed è un po' uno specchio forse per quello che riguarda il Partito Democratico, un po' il partito dei singoli che decidono in qualche modo di uscire o di restare. Di questo parleremo in qualche modo, è naturalmente una declinazione simpatica ma il tema è molto serio, ne parleremo con due esponenti del Partito Democratico, vicini ma diversi, in qualche modo Mauro Grassi alla mia destra, che saluto e ringrazio, buonasera. Buonasera. E buonasera anche a Mirko Dormentoni. Buonasera a tutti. Allora, al di là dei loro ruoli diciamo istituzionali, Mauro Grassi è direttore del centro per il diserso idrogeologico sostanzialmente del governo, sotto Palazzo Chigi, Mirko Dormentoni è presidente del quartiere 4 a Firenze, ma noi li abbiamo entrambi appellati come Partito Democratico anche se all'interno hanno delle differenze. Vorrei chiedere, intanto, a ognuno vi chiedo in un minuto se quello che sta succedendo nel Partito Democratico, secondo voi, che tipo di notizia è? Nel senso, perché ci sono scuole di pensiero anche all'interno del Partito Democratico di chi dice da oggi il Partito Democratico in qualche modo potrebbe avere meno lacce e lacciuole, quindi essere in qualche modo più libero, anche meno dietro alle logiche di partito, magari di qualche nostalgico, così viene definito. Chi dice invece la sconfitta, la fine del Partito Democratico? È la fine o no? Grazie, Paolo Dormentoni. No, diciamo, io ho previsto tre anni fa che queste due forze, Renzi da una parte e il partito, diciamo più di sinistra, si sarebbero divisi, speravo che non succedesse ora perché siamo alla vigilia di una tornata elettorale molto importante, però credo siano due forze che possono anche dividersi senza creare grandi problemi per la politica italiana. Oggi col proporzionale però? Oggi, certo, diciamo, alla luce della... Io non sono un grande amante dei sistemi maggiorità. Vermettoni? Ma devo confermare che Mauro qualche anno fa me lo disse, eravamo fuori la via Forlanini e io non ci volevo credere o comunque non mi volevo rassegnare a questa idea perché credevo ancora nel progetto del Partito Democratico che fondeva e amalgamava. Dobbiamo dire che oggi però il fatto di dividersi viene da lontano e quindi questo sono d'accordo con Mauro. viene da lontano, viene dal fatto che negli ultimi anni, viene dal fatto che in questi dieci anni abbiamo mancato nella costruzione di un partito e dal fatto che negli ultimi anni il partito è stato completamente abbandonato. In questo io do comunque una responsabilità principale al segretario uscente, uscito Matteo Renzi. In questo adesso si delinea perlomeno una sfida piuttosto chiara perché oggi, proprio oggi, Orlando ha annunciato, insomma, ufficializzato che sfiderà Renzi, a questo punto anche Emiliano, al congresso. Come dire, è una sfida che farà bene al partito, Grassi, mi sembra lei? Ma certamente sì perché sono tre visioni diverse della politica, sempre all'interno però del Partito Democratico. Cosa significa all'interno del Partito Democratico? All'interno di un partito in cui Renzi non viene considerato un elemento estraneo, un alieno. Allora sono tre visioni che possono convivere, una più di sinistra, quella di Emiliano, diciamo, un po' più movimentista, un po' più grillina, e quella di Renzi, diciamo, più liberal-democratica. Io credo che queste tre componenti possono arricchire il partito. L'importante è che siano fatte fra persone che pensano che chiunque vince non usurpa il partito. Qualcuno invece, evidentemente, Dormentone l'ha pensato perché ha deciso di uscirne. Perché secondo lei, Bersani, Speranza, non hanno deciso di sfidarlo dall'interno? Perché hanno ritenuto, e sicuramente non è una decisione che è stata presa dal giorno alla notte degli ultimi giorni, che in questo partito non ci fosse più la possibilità di fare una politica insieme. E io lo capisco questo, lo capisco, non condivido alla fine la scelta, ma lo capisco bene, lo capisco bene, e più che altro l'hanno capito gli elettori. Io qui ho alcuni dati che ci fanno vedere come gli elettori del Partito Democratico negli ultimi anni si sono allontanati dal Partito Democratico. Cioè una parte degli elettori del Partito Democratico si sono allontanati. Questo sicuramente è un processo anche normale nella società di oggi, che è in continuo cambiamento, il sistema politico che cambia. Un po' la crisi dei partiti. Che è in movimento, la crisi dei partiti. Però noi non abbiamo per nulla riflettuto su quello che è successo in questi ultimi due anni. Dalle elezioni europee del 2015 all'amministrativa del 2016 all'ultimo referendum, in cui noi non riprendiamo con il sì. Dico noi, perché anche io ho votato sì, anche se con tantissimi dubbi. Non riprendiamo neanche i voti del PD dell'europeo del 2014, sapendo che molti altri elettori di altri partiti, anche moderati, hanno votato per il sì. E noi in tutto non riprendiamo i voti del PD del 2014. Questa è una domanda, in qualche modo, comunque una riflessione che giro anche a Mauro Grassi, perché effettivamente quel 40% dell'europeo rimane sempre il monolitico voto, sostanzialmente a cui ci si rifà, però è passato secoli, verrebbe da dire. Oggi, secondo lei, la situazione qual è? Nel tempo si è perso troppo? È irrimediabile, in qualche modo? Ma io intanto non sono molto affascinato da questo 40% dell'europeo, 40% del referendum. Sono dati diversi, sono situazioni molto diverse. Io sono affascinato da una cosa. Io ho fatto le primarie per Renzi a Livorno, era assessore a quei tempi a Livorno, quindi una realtà che conoscevo poco, in cui ho visto che si è mobilitato un pezzo di società diversa da quella anche che generalmente trovavo all'interno del partito. Io dissi, se noi si riesce ad attrarre questo livello di società, queste persone, queste idee, molto probabilmente queste entrano in contrasto con una parte tradizionale del partito. Non ce la facciamo a tenere tutte e due. E io ho sempre detto, molto probabilmente, se si esce dall'idea di un partito maggioritario che tiene tutto dentro, ma allora è un modello molto diverso di stare assieme, io credo che due forze politiche che non si letiano dalla mattina alla sera, possono fare il loro ruolo, cercare agganci nella società, dare risposte, Dormentoni dice vanno date ad una certa parte di persone che sono uscite, è inutile tenere assieme gente che dice se vince Bersani io me ne vado dal PD, non lo voto, o gente che dice se vince Renzi io non lo voto. Sulle due forze è stato ottimista, nel senso che poi a sinistra ce ne sono molte di più, a sinistra del partito democrafico. E vabbè, si daranno un po' da fare anche loro per vedere di federarsi. C'è secondo lei Dormentoni una sintesi, si può creare una sintesi a sinistra del partito democrafico tra i tanti movimenti, ovviamente sinistra italiana, poi c'è Civati, c'è questi nuovi fuoriusciti appunto Rossi e Company. Io penso di sì, non fra tutti, perché penso che comunque resti una sinistra radicale con scarsa aspirazione al governo e quindi penso che la sinistra è fratto gli anni, non so cosa farà e dirà Civati, però penso che ci sia l'opportunità e la possibilità che molti altri invece si uniscono in un unico movimento, partito, come si vorrà chiamare. E penso che questo possa essere anche positivo in un sistema nuovo, che è quello di un sistema politico che si è creato negli ultimi due anni, in cui non ci sono due poli, ma ci sono cinque, sei partiti che possono superare il 10%, un sistema che non sarà più fortemente maggioritario e quindi è utile che ci sia questo. Bisognerà confrontarsi sui contenuti, sui programmi. Io nel PD vorrei che fosse radicalmente cambiata, fortemente cambiata la linea politica, perché abbiamo sbagliato molte cose nelle politiche sociali ed economiche, abbiamo sottovalutato diverse cose, io sul Jobsat penso che ci siano degli errori, penso che si possano fare più e meglio e diversamente alcune politiche economiche e per il lavoro, vanno dati dei messaggi a persone che oggi nelle periferie delle città e del paese, che non vuol dire periferie solo nel senso che stanno geograficamente, ma anche nel quartiere 1 del centro storico di Firenze, il quartiere 1 è il quartiere in cui ci sono state più sezioni elettorali dove ha vinto il no. E si identificano con zone in cui persone di varia estrazione sociale, ma molto sono anche classi popolari, hanno detto no a questi tre anni di governo. Io penso che questo sia il messaggio principale, che arriva dagli abitanti delle case popolari di Firenze, la maggior parte degli abitanti delle case popolari di Firenze hanno votato no, a questo si vede nella sezione elettorale, arriva dalle periferie, arriva dalle zone più degradate o con più problemi sociali di lavoro o di degrado fisico dei luoghi. Non abbiamo risposto a tanta gente in questi tre anni. Nel sac del malcontento sociale poi si sviluppa quella sorta di sentimento anti-establishment, che poi in realtà, ora la voglio dire così perché è un po' un trend, questo si è affermato, anche se ovviamente i presupposti erano totalmente diversi, però è lo stesso trend che c'è stato per quanto riguarda la Brexit, è stato un voto piuttosto eclatante in quel senso lì contro quello che era sostituto dal governo, invece per rimanere all'interno, e anche nelle elezioni di Trump, che è stata forse quella più simbolica per quanto riguarda la lotta all'establishment, lì è stata anche una capacità di narrazione di chi ha narrato il no al referendum costituzionale in Italia come il voto anti-establishment, però effettivamente lontano dai centri abitati, laddove probabilmente arriva anche meno la vicinanza politica, fermo le stand, come ricordava Bermentone, il quartiere 1 è andato in una direzione diversa da quello che proponeva lo stesso sindaco Nardella, è effettivamente un tema probabilmente da analizzare con più attenzione, cioè laddove c'è l'emergenza sociale vera il Partito Democratico oggi non raccoglie più voti, e invece era forse il cuore pulsante dell'elettorato o no? Ma intanto il PC non è mai stato il partito delle classi più poveri, abbiamo sempre preso delle ballate mostruose nel sud e nelle aree povere anche delle regioni del centro nord, quindi non è mai vero che la sinistra ha abbondato di voti laddove c'erano i grandi problemi, perché il PC proponeva delle soluzioni e non delle... Altra cosa sono soluzioni liberatorie. Vediamo le tre, brevemente, le tre crisi attualmente del PD. Prima, emigrazione. Immigrazione, insomma, scusate, non emigrazione, emigrazione. L'immigrazione il governo ha fatto veramente tanto, e ha dato una linea veramente di sinistra. E molto probabilmente il popolo che convive con quegli immigrati non vuole avere la risposta. Quindi non è facile gestirla quel tema. Secondo tema, le banche. Perché i tre temi sono le banche, l'immigrazione e il lavoro. Arrivo l'ultimo al lavoro. Le banche. In nessun paese d'Europa si è fatto fallire le banche. Si sono spesse cifre dieci volte superiori a quelle dell'Italia. Per salvarle, perché una rottura del sistema bancario avrebbe portato un disastro al paese. La gente continua a dire, voi salvate le banche e mi lasciate qui senza lavoro. Non ha capito nulla. Perché se... E siamo stati attaccati dal nostro interno. Perché se noi facciamo fallire le banche, la situazione sarebbe più disastrosa non per i ricchi, ma per i poveri. Ultimo punto, il lavoro. Qui vengo incontro a quello che diceva Dormentoni. Molto ovviamente, non tanto il job act, la mancanza di crescita che c'è stata. Il fatto che si doveva crescere di più e non lo si è fatto. Il fatto che l'austerità ci ha colpito duramente e non siamo riusciti ad andare oltre. Ha portato sacche. Non tanto di povertà che ci sono e che vanno combattute. Io sono perché questo tema debba ritornare al centro dell'attenzione. Ma sul lavoro abbiamo il job act e tutto ciò che è stato fatto è stato tradotto nella parte più precarizzante, non in quella più dinamica, perché è in mancanza di crescita. Lì dobbiamo fare qualcosa. Io spero che Poletti e il governo, anche Gentiloni, in questa fase dia delle risposte. Perché chi perde il lavoro non deve avere l'assillo di non portare a casa lo stipendio. E comunque sono tre temi, e Dormentoni in qualche modo tutti e tre devono avere delle risposte. Certo, un tema interessante di quello che diceva Grassi, nel senso che l'immigrazione declinata a sinistra è un tema che è qualcosa che non piace all'elettorato. È d'accordo? Sì, sicuramente questo è un tema importante, che incide tantissimo. declinata da sinistra, però è difficile da far passare come un motodo giusto, anche perché è difficile da comunicare. Nel senso che il Partito Democratico, e su questo sono d'accordo con Mauro, e il governo Renzi, e adesso il governo Gentiloni con il piano che ha fatto Minniti, Libia, ancora meglio, direi che sta affrontando il tema con l'animo giusto e con le forze che si possono mettere in campo come è stato, perché poi c'è il problema dell'Europa che non ci aiuta per niente. E quindi anche qui bene la forza con cui il governo Renzi ha cercato di cambiare le cose in Europa. In questo gli imputo soltanto una solitudine che poteva cercare di spezzare, perché comunque l'individualismo poi ce l'ha avuto Renzi anche sul piano internazionale, laddove forse potevamo cercare di più di fare squadra fra i partiti della sinistra europea, anche se la sinistra europea oggi è in gravissima crisi, naturalmente. Però voglio dire, oggi l'impatto è quello che si deve fare con il piano Minniti, cioè da una parte la legalità riportata con tutti gli strumenti possibili e quindi benvengano anche questi centri limitati, circoscritti ma efficaci per l'identificazione e l'espulsione e il modello toscano per l'integrazione, quello dei piccoli numeri distribuiti. Su questo ancora non tutte le amministrazioni locali fanno il suo dovere, anche quelle del Partito Democratico, con la paura del voto leghista, però poi se non facciamo tutto il nostro dovere non riusciamo a fare squadra per rispondere al problema nel modo giusto. Però io penso che nel medio-lungo periodo i risultati possano venire. è più difficile nel breve periodo e sicuramente anche questo si vede poi dai dati elettorali laddove anche in Toscana la Lega Nord nel 2015 ha avuto un exploit e su questo non abbiamo riflettuto, nemmeno su questo. Ci arriviamo al Partito. Al Partito ci arriviamo perché poi è un tema piuttosto importante e lo declineremo anche proprio in Toscana, l'ha citato Dementone, ma ormai in questi ultimi tre minuti della prima parte voglio rimanere un attimo sul tema nazionale per chiedere una cosa abbastanza semplice, insomma valutate voi se è semplice o no perché qualcuno vede anche nella fuoriuscita appunto di Rossi, D'Alema eccetera, Berzani dal Partito Democratico anche sostanzialmente una linea che ha preso il Partito Democratico che non è così a sinistra come queste persone vorrebbero e altri però sostengono, chi difende invece l'operato di Matteo Renzi sostiene sostanzialmente che tutto quello che è stato fatto, la direzione che ha preso il Partito Democratico stava nell'ingotto del 2007 quando il Partito Democratico è nato. Voglio chiedervi un parere su questo. Grazie Dementone. È una sinistra diversa, io insisto, cioè una sinistra che parte non dal liberismo come dice Giavazzi e Alesina che sbagliano completamente perché il liberismo è sempre stato di destra, storicamente di destra e teoricamente di destra. È una liberal democrazia che fa i conti con la complessità e la modernità e quindi è una sinistra diversa che rompe con alcuni elementi della tradizione. Dementone? Ma io invece penso che siamo stati troppo poco sinistra anche se naturalmente oggi si deve rispondere in modi diversi e quindi un'innovazione nei metodi e anche nei contenuti era necessaria svilupparla dalla crisi in poi, dal 2008 in poi e siamo stati anche troppo lenti nel farlo. Però poi c'è anche un problema di tenere insieme le anime e le culture e creare delle risposte giuste comunque indirizzate alle classi sociali che sono più in difficoltà e che negli ultimi dieci anni sono aumentate in quantità e in qualità, nel senso che le classi medie anche nel nostro paese, anzi nel nostro paese anche più che in altri paesi occidentali sono andate in basso dal punto di vista del reddito relativo e quindi la povertà assoluta è aumentata, la povertà relativa è aumentata e sempre più persone sono in difficoltà. La maggior parte dei giovani di oggi hanno meno opportunità, non solo guadagnano meno quelli che lavorano, ma in generale hanno meno opportunità dei loro genitori e in questi ultimi anni in cui il PD è stato al governo non c'è stata un'inversione vera di tendenza e siccome il PD è, nel momento in cui è al governo, si realizza nel suo programma di governo e allora qui dobbiamo pensare che abbiamo sbagliato e dobbiamo recuperare molto a sinistra, ma non perché la sinistra deve essere una parola, un'ideologia, per me possiamo anche non dire sinistra, possiamo dire centrosinistra, possiamo dire progressisti, possiamo dire attenti... socialisti, socialisti e democratici, attenti alla giustizia sociale, nel momento in cui le disuguaglianze sono aumentate in modo veramente troppo forte. Allora ci fermiamo più che per questa prima parte, il dibattito è interessante e lo continueremo nella seconda parte anche perché mi piacerebbe svilupparlo un po' sui territori per capire poi se questa fuoriuscita, scissione, chiamata l'omolevole, in sostanza verrà delle relazioni, dei riflessi importanti anche sui territori, soprattutto in quella rossa toscana, che forse così rossa rischia di non essere più dopo tutto quello che sta succedendo. Cinque minuti di informazione e poi torniamo in studio. Grazie a tutti. 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 Su questo dovrà essere misurato il governatore e la sua squadra, che è una giunta, quindi non c'è solo un governatore, ci sono tutti gli assessori, tra cui l'assessore Stefania Saccardi che è l'assessore più importante per la quantità di cose che fa e è un assessore assolutamente serio che sta facendo un gran lavoro. quindi si lavori su questo, non si usino né da parte di Rossi, ma sono sicuro che non lo farà, né da parte di Parrini o di altri consiglieri regionali, in modo strumentale per motivi politici, le istituzioni. Grazie a tutti. 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 e che non venga cambiato, io credo, spero che gli sia dato tutto lo spazio possibile al presidente Rossi, purché lui nella nuova veste non caldeggi o non lisci il pelo a tutta la sinistra anti-PD della Toscana. perché allora in quel caso lì parlo della tirrenica, parlo della geotermia, parlo dell'inceneritore, parlo di tutte queste tematiche aperte in cui la regione deve andare avanti, parlo dell'alta velocità, della stazione dell'aeroporto. Cioè, se diciamo Rossi, pur nella sua nuova collocazione politica, non si mette a lisciare il pelo a quelle componenti, diciamo, della sinistra antagonista o anti-PD della regione toscana, credo non ci sarà nessun problema e dovrà andare tutto avanti. Beh, anche per quanto riguarda l'alta velocità, bisognerebbe dirlo anche al governo e al gruppo ferrovia dello Stato, soprattutto, che bisognerebbe andare avanti per bene su tutto il progetto. Mi sembra vada, no? Eh sì, insomma, sulla Foster mi sa che siamo un po' bloccati. È stato bloccato, come tutta la Toscana, come la strada, l'autostrada alternativa per Bologna e tutto, da questo tema solo toscano delle rocce e terre della scala. Però l'amministratore delegato e il presidente del ferrovia dello Stato ha detto che la Foster non è utile, volendo tornare indietro su un progetto importantissimo e ormai già in fase di esecuzione a metà già costruita. Eh, le incubature commerciali sono tutti i temi. Quindi, su questo non dobbiamo dirlo a Rossi, ma dobbiamo dirlo a Ferrovie e a chi ha nominato Mazzoncini alle Ferrovie. E tra l'altro, insomma, su questo c'è, vabbè, il tema della Foster lo lasciamo fuori perché se no sarebbe un tema troppo grande, troppo importante. Però è un tema cruciale per Firenze, ma ovviamente non solo per Firenze ma per tutta la Toscana. Però volevo riprendere le parole di Grassi, no, che diceva, insomma, se Rossino non strizza l'occhio, diciamo, alla sinistra antagonista. Anche perché, insomma, mi viene in mente che c'è una tornata di amministrative piuttosto importante anche in Toscana. C'è Carrara, Pistoia, Lucca, insomma, sono centri molto importanti e si sa che anche nei posti, lei lo può testimoniare probabilmente anche a Livorno, anche nei posti dove la sinistra, radicalmente, nella storia è più forte così, dove ci si divide o dove si fa qualcosa che non funziona, poi si perdono le elezioni. No, certamente. Bisogna stare molto attenti a questo punto di vista. Io sono convinto che se non si lavora seriamente sui contenuti del governo, dell'amministrazione, a questo punto di vista io penso che il PD nei territori abbia uno straordinario valore fatto dai suoi amministratori, che è quello che poi diventa il rapporto con i cittadini. Io, la Presidente del quartiere, lo vivo tutti i giorni questo, e vedo quanto è importante stare con le persone, ascoltarle, rispondere, 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 con pazienza, ma sempre dare una risposta. Però questo non si può affidare alla singola capacità o buona volontà dei singoli amministratori. È qui che manca il progetto collettivo, che deve poter recuperare anche un partito con la sua autonomia. Non sognando il partito di una volta, che c'è stato, che forse non c'è neanche mai stato, in cui le sezioni del partito avevano tantissima gente che andava in giro e faceva il partito nel territorio. Con modalità nuove, certamente, usando la rete, usando metodi diversi, aprendosi, non stando dentro le sezioni, andando in giro. Però ci sono le possibilità, solo che nessuno l'ha curata questa parte. Cioè la parte di un partito democratico che si è fatto di persone che sul territorio parlano con i problemi della gente e poi propongono delle soluzioni, anche alle amministrazioni e anche con qualche grado di autonomia e di critica. Il PD oggi è completamente appiattito sui suoi eletti. Grazie su questo. Ma diciamo, questo è vero, i territori vanno curati di nuovo, sono stati un po' abbandonati, non tanto solo dal PD, un po' dalla politica sono stati lasciati. Però credo il fatto nuovo con cui bisogna fare i conti è questo della politica, dei contenuti. Io vengo da Genova, ero ieri a Genova, dove ci sarà l'elezione anche lì. Il problema fondamentale in un sistema tripartitico in cui un blocco è un blocco culturalmente anti-PD e anti-sinistra, vincere le elezioni dell'amministrativa è diventato per i PD e per qualsiasi partito di sinistra, si chiamasse anche partito socialista per la rinascita dell'Europa, è diventato estremamente difficile perché o vinci al primo turno o tu hai una coalizione della destra e degli anti-sistema che è difficilissimo battere. Quindi il problema delle amministrative sta diventando, non tanto il problema, è quello che ha detto Tormentoni, lo sottoscrivo, recuperare il rapporto, recuperare i gruppi dirigenti locali che ormai non si... Quindi diciamo il partito e la politica, oltre al partito la politica va recuperata a livello dei territori, però con la consapevolezza che lavorare sulle amministrative con il ballottaggio, mentre un tempo il ballottaggio era la scelta fra due opzioni diverse, attualmente è un bagno di sangue per la sinistra. Diciamo, la scelta ora è molto più tra quello che è sistema e quello che è antisistema, ma poi il senso è un po' questo. Su questo volevo richiedere anche a Tormentoni, insomma facendo il presidente di quartiere ci sta a contatto poi con le persone, ci parla tutti i giorni. Prima ne parlavamo sull'immigrazione, no? Grassi diceva questo è un sentimento, forse è anche, diciamo, si sposta da... Qualsiasi sia la risposta della sinistra, si sposta e va forse un po' più a destra. Volevo sapere se, insomma, quali sono le istanze che i cittadini le portano tutti i giorni, quella che sente più spesso e che magari sono... come sono cambiate nel corso degli anni? Ma sicuramente oggi c'è una fortissima attenzione alla sicurezza e al degrado o meglio alle condizioni fisiche del proprio territorio e quindi dei propri spazi pubblici, del giardini, delle strade, dei marciapiedi. La sicurezza, ripeto, è un elemento fondamentale. Ci si sente meno sicuri, come mai, secondo lei, oggi? Ci si sente meno sicuri perché oggi è così amplificata la paura che fa diventare qualsiasi atto, reato, atto di vandalismo, persone strane, brutte, cattive, diverse, un elemento di forte paura. Io penso che per la stessa quantità oggettiva di reati e di problemi ci sia una quantità sproporzionata, crescente rispetto al passato, di paura e quindi di percezione di insicurezza. Ci sono anche le forze politiche che soffiano su questo? Ci sono le forze politiche che soffiano, ci sono i media che soffiano e che trattano in modo assolutamente strumentale per fare audience, per fare scoop i problemi. Ci sono anche una quantità di persone con grosse difficoltà economiche o senza casa, tra cui sicuramente gli immigrati degli ultimi anni, gli arrivati degli ultimi anni da altri paesi del mondo che creano questa percezione. E quindi sicuramente questo è un tema importantissimo. Poi sono tante anche le persone che vengono da me che posso fare niente perché non hanno lavoro, perché hanno perso lavoro, quarantenni, cinquantenni, perché li sfrattano di casa e questi sono problemi veri, veri, forti, forti che non sono in diminuzione per niente. Rimango un attimo sul documentone, però velocissimo perché poi volevi chiedermi un paio di cose. Lei diceva, ne parlavamo anche prima dell'inizio della trasmissione, cioè io vorrei capire, e lo chiedo un po' in tutti questi giorni, l'ho chiesto sempre, qual è la portata, secondo voi, di questa fuoriuscita? Cioè quanto Rossi, D'Alema, Speranza, Bersani porteranno via sui territori dal Partito Democratico per quanto riguarda Firenze in questo caso, secondo lei? Questo è difficile, veramente difficile da dire oggi. Lei intanto che cosa farà? C'ha deciso? Io non ho deciso al 100%, ma tendenzialmente penso di restare nel Partito Democratico e di provare a cambiare la linea del Partito Democratico, come dicevo all'inizio, la linea e quindi evidentemente anche il segretario di missionario, e mi impegnerò per questo, vedremo quale sarà il migliore candidato e il miglior programma da questo punto di vista. Su Firenze come pensa che ci sarà una fuoriuscita larga? Su Firenze, ora il largo è relativo, sicuramente ci sono tanti militanti, iscritti e militanti, l'abbiamo visto in questi giorni, sono venute anche le televisioni, curiosissime, perché appena c'è... sono venuti da noi al circolo PD Isolotto e lì abbiamo toccato con mano quanti iscritti e militanti ci siano che sono pronti con la valigia perché non si sentono più a casa loro. Le parole sono queste sostanzialmente e non è un problema degli ultimi mesi, ma è un problema degli ultimi due o tre anni. questo in termini di elettorato non lo so quantitativamente cosa significherà. Comunque ci sono alcuni segretari di circolo, sicuramente due consiglieri comunali a Firenze, alcuni consiglieri di quartiere che escono dal PD. Grazie su questo, una domanda è veloce anche per lei, se me la vuole dire anche a livello nazionale, secondo lei quanto vale? 2% perdita del PD e 2% recuperato nel mondo fuori del PD. Quindi è lontano a quel 6% che qualcuno ipotizzava? Attualmente sì, c'era Emiliano, era diverso, perché c'è un trascinamento verso il sud, il sud per il PD è un bagno di sangue, è difficile entrarci, è difficile organizzarci, Emiliano rappresenta molto bene il politico di sinistra, diciamo più vicino ad una certa parte del mezzogiorno. Senza Emiliano credo più del 4% e dal PD più del 2% non credo che attualmente riescano a prendere. Io su questo ho opinioni diverse, sì, penso che... Poi magari vince Mauro, però come quella scommessa di tre anni fa. Però secondo me... Non ci verranno tre anni per sapere. Secondo me no, non ci verranno tre anni, ci verranno troppi pochi mesi se va avanti così Renzi e se Gentiloni gli darà retta, ma penso che i parlamentari ci penseranno prima di mandare a casa un governo da qui a due mesi, anche perché abbiamo bisogno di fare politiche importanti e di cambiare qualcosa sul lavoro, come diceva prima Mauro. Quindi penso e spero che non andremo ad elezioni a giugno e mi dispiace molto che Renzi e alcuni suoi, oggi si ridice sui giornali, puntino ancora a questo obiettivo e per questo a fare il congresso in 20 giorni, come se un congresso potesse risolversi nelle elezioni primarie, anche se questo poi è un problema strutturale dello statuto del nostro partito, per questo io cambierei anche lo statuto del nostro partito. Però dicevo, per me sta sottostimando, io penso che se riescono a fare un soggetto unico di centro-sinistra, diciamo, a sinistra del PD, può puntare alla doppia cifra, io penso di sì. Vabbè, c'è un se importante però quello del soggetto unico, io non sarei così convinto, perché insomma già le posizioni inizialmente mi sembravano piuttosto divergenti. Vedremo, vedremo, di questo torneremo a parlarne. Siamo in chiuso, devo solo chiedere una cosa al volo. Dal 10 al 12 marzo ci sarà questa sorta di lingotto 2, insomma, quello che sarà una base programmatica probabilmente per Renzi per ripartire. Volevo sapere se ci andrete. Grazie. Io sì, porteremo la discussione su cambiamenti climatici e rischi per il Paese, come affrontare questa nuova tematica e vecchia tematica della prevenzione. Quindi il lavoro di Italia sicura, diciamo. Dorme, Antonio, ci andrà? Io penso di no, perché leggerò i documenti preparatori, ma mi sembra di capire che comunque sarà la piattaforma congressuale di Renzi e quindi al 90% confermerà l'impostazione che ha avuto Renzi in questi ultimi mesi e anni, che io non ho condiviso. Quindi guarderò con molta attenzione a tutti i documenti congressuali, ma probabilmente, quasi sicuramente, io guarderò agli altri candidati. Va bene, noi magari torneremo anche a parlarne insieme. Io intanto ringrazio Mirko Delmentoni per essere stato con noi. Grazie e grazie anche a Mauro Grassi. Grazie a tutti. Grazie a voi per averci seguito da casa. Telegram Termina, qui ci vediamo domani. Buona serata a tutti. Grazie a tutti.